Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Ben ritrovati dalla redazione di Fano TV, Occhio alla Notizia, il telegiornale in onda sul canale 17. Apriamo con la cronaca. Un giovane nigeriano di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri di Fano per resistenza a pubblico ufficiale e possesso illecito di documento di identità. Ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, il ventenne era in compagnia di un suo connazionale, quando per motivi ancora da chiarire, in quanto nessuno parla l'italiano, sono venuti alle mani dopo un breve inseguimento a piedi. Una zufa che ha mandato al pronto soccorso la vittima con una prognosi di sei giorni. I carabinieri hanno rintracciato l'aggressore intorno alle 23 in Viale Cairoli, nella zona del Lido, mentre era in compagnia di altri tre connazionali, tutti regolari, tra cui la vittima. Portato in caserma per l'identificazione, il giovane è stato denunciato. La Confcommercio di Fano scrive alla Regione Marche e chiede di anticipare di una settimana l'apertura dei negozi per tentare di far ripartire al più presto l'economia locale. La situazione è drammatica, come ben sappiamo siamo arrivati a due mesi di chiusura e la situazione è veramente disperata. I commercianti non ce la fanno più. È un grido di dolore che si unisce al coro dei tanti operatori economici che in questo periodo vedono nel loro orizzonte lavorativo solo una tempesta in arrivo. E tra le nubi, fitte, nere, cariche di incombenze economiche, nemmeno un raggio di sole, come invece era stato loro prospettato, con una iniezione di liquidità ed aiuti governativi pronti cassa. Il commercio, come tante altre attività, vive di flussi di cassa per poter pagare gli affitti, le bollette, le merci, le merci che sono nei magazzini, in vendute. I commercianti non ce la fanno più. Hanno bisogno di tornare a lavorare per poter pagare tutte le spese perché anche tutte le merci che hanno nei negozi sono già state pagate con dei titoli. titoli che hanno dato chiaramente ai loro fornitori e che se non riaprono le saracinesche e non incassano del denaro contante non riusciranno a pagare. E per far sentire la loro voce, quindi quella delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell'economia italica, che hanno preso il cuore a quattro mani e hanno scritto alle istituzioni regionali. Noi chiediamo e abbiamo chiesto alla regione, abbiamo contattato il servizio commercio della regione, nonché una lettera già fatta al governatore, Luca Ceriscioli, non più di una settimana fa, di almeno poter riaprire anche una settimana prima perché anche una settimana in questo momento è importantissimo. Perché ricordiamoci che già prima la situazione era drammatica, adesso ancora di più e non sapremo cosa succederà nel futuro. Già il futuro, dicevamo, carico di incognite perché una volta alzata la saracinesca ci saranno i clienti. Come risponderà un mercato già messo in crisi dalla forte assenza di liquidità e lavoro? Avranno bisogno di essere sostenuti i commercianti, come tutte le categorie, con un'iniezione di liquidità, un'iniezione di fiducia, perché ricordiamocelo che fino adesso di concreto non è arrivato niente, i commercianti non hanno avuto niente, ma abbiamo bisogno di certezze, certezze per poter riaprire le saracinesche, perché molti commercianti non riusciranno ad aprire se non acceleriamo in qualche modo i tempi, anche una settimana, ma abbiamo bisogno di questo. E all'ospedale Santa Croce di Fano è avvenuto nei giorni scorsi il secondo prelievo di organi da parte dell'azienda ospedaliera Marche Nord. I medici, l'equip, hanno prelevato da una giovane donna deceduta di 41 anni alcuni organi, dreni, fegato, pancreas, polmoni e cornei. Il prelievo è stato condotto dal Collegio Medico di Professionisti, che dopo l'esito del doppio tampone negativo sulla paziente hanno provveduto al trasporto e alle verifiche cliniche dell'idoneità degli organi al trapianto. 50.000 mascherine sono arrivate oggi al Codma di Rosciano di Fano, pronte per essere distribuite gratuitamente nei quartieri della città. Il carico di dispositivi è stato donato da un comune della Germania, Simona Zunghetti. Questa è l'Europa che mi piace, l'Europa delle relazioni tra gli amministratori e le comunità. Entusiasta e grato, il sindaco Massimo Seri ha ringraziato il comune di Wolfsburg, che ha fatto recapitare al Codma di Rosciano 50.000 mascherine chirurgiche. Il gesto di solidarietà è scaturito dai rapporti instaurati con Fano, grazie agli scambi culturali tra gli studenti e ai progetti che legano le due realtà. La cittadina tedesca, che è gemellata dal 1975 con la provincia di Pesero e Urbino, ha così deciso di donare i dispositivi di protezione al comune di Fano. Il carico è stato accolto dal primo cittadino, dal vice sindaco con delega alla protezione civile Cristian Fanesi, dai responsabili di Asur Mar, che è area vasta 1, e dai volontari del CB Club Mattei. Io in questi anni ho investito molto sulle relazioni anche internazionali, che ci hanno portato ad avere grandi risultati anche in termini economici su tanti progetti europei finanziati, ma ci hanno portato a svolgere anche determinati ruoli e presenze che Fano non aveva avuto. E queste relazioni poi ti portano anche in momenti come questi a confronti e aiuti. Nel nostro dialogo tra sindaci c'è stata questa disponibilità da parte del sindaco di Wolfsburg a sentire la Volkswagen direttamente che ha la sede là e ci hanno fatto giungere queste 50.000 mascherine gratuitamente che si uniranno ad altri 10.000 che abbiamo acquistato e quindi sono 60.000 che noi distribuiremo a tutti i cittadini della città di Fano. Nelle scorse settimane, ha precisato il sindaco, ne abbiamo già distribuite 34.000. Le ultime arrivate invece saranno consegnate con modalità ancora da stabilire. Tra le ipotesi c'è quella di distribuirle attraverso la protezione civile e le associazioni di quartiere, evitando che qualcuno possa prenderne di più lasciando senza altre persone. Per i bambini invece avete dei progetti? Anche per i bambini che ovviamente devono avere un'attenzione particolare, anche su questo ci sono alcune associazioni che stanno preparando delle mascherine dedicate a loro, lavabili, ma su questo non anticipo niente perché la sta seguendo anche l'assessorato e quindi si aggiungeranno anche queste per i bambini che avranno delle tonalità e delle simpatie idonee per loro. A giovani e adulti invece Massimo Seri ha voluto lanciare un ulteriore appello. Per cui saremo severi perché siamo veramente in una fase delicata. Per tenere comportamenti irresponsabili rischiamo di compromettere tutto il lavoro fatto e invece di fare un passo avanti poi saremo costretti a farne i due indietro. Allora abbiamo voluto fare questo sforzo grazie anche all'aiuto di altri, quindi tutti dobbiamo portare le mascherine, sia quando andiamo nei luoghi chiusi, quando andiamo nei negozi ma anche quando siamo all'aria aperta insieme ad altri perché è importante, ripeto, per tutelare noi stessi e per tutelare gli altri e soprattutto per non tornare indietro. E a richiamare la responsabilità dei cittadini è stato anche il sindaco di Pesero Matteo Ricci dopo l'appello lanciato ieri sui social, oggi il primo cittadino ha rilanciato la campagna del Comune con il messaggio Metti la mascherina. Abbiamo consegnato in città oltre 200.000 mascherine agli adulti e 8.000 a tutti i bambini. Nelle farmacie comunali, ha ricordato il sindaco, si trovano a 61 centesimi. Il mese di maggio è fondamentale, ha proseguito, se saremo intelligenti e costanti nel seguire le regole, sconfiggeremo il virus e potremmo tornare, sperare, in un'estate quasi normale. E adesso parliamo del trasporto pubblico locale, perché il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, ha firmato un'ordinanza che detta le regole da rispettare a bordo degli autobus, mascherine obbligatorie, distanze di un metro e pochi passeggeri. Eravamo abituati a vedere i bus pieni di gente, in piedi, a sedere nelle fermate. Oggi, ai tempi del Covid, la situazione si è capovolta, poche persone e a debita distanza. Ieri, il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, ha firmato un'ordinanza valida dalla mezzanotte del 7 maggio, che fissa le regole da rispettare sui mezzi pubblici locali. Sugli autobus sarà obbligatorio l'uso di mascherine. I passeggeri dovranno indossarla già nel momento in cui si trovano nelle varie banchine o stazioni. L'autista potrà sospendere la corsa in caso di inosservanza della disposizione. La salita e la discesa dai mezzi, invece, dovranno avvenire con flussi separati, in base al numero di porte. In ogni caso, è vietato stazionare nell'aria adiacente al posto di guida o avvicinarsi al conducente per qualsiasi motivo. È sospesa, infatti, la vendita dei biglietti a bordo, possibile online o tramite applicazione, ed è ridotta l'attività di controlleria. Con delle catenelle non ci si può avvicinare alla zona del conducente, ma stiamo realizzando giorno dopo giorno una serie di protezioni in plexiclass, in modo da isolarlo ancora di più. In caso di raggiungimento del numero massimo di passeggeri, l'operatore potrà rifiutare l'accesso ad altri utenti. Se prima, in un bus come questo, potevano sedersi 59 persone, oggi potranno farlo in 15. Altra norma, poi, riguarda l'igiene e la reazione dei veicoli. Praticamente è inibito l'uso del ricircolo dell'aria condizionata, quindi l'aria viene presa da fuori e viene buttata fuori dopo averla climatizzata. Lunedì scorso Adria Bus, che gestisce il servizio nella provincia pesarese, ha registrato 3.400 passeggeri. Un calo drastico, spiega il direttore Benedetti. Basti pensare che in tempi pre-covid i viaggiatori erano 40.000 ogni giorno. C'è una ripresa della domanda di trasporto, per cui già dall'inizio della prossima settimana saranno intensificati i collegamenti tra alcune località, che sono naturalmente quelle per cui la domanda è sicuramente maggiore. Sarà importante, conclude il direttore, rispettare le regole per il bene di tutti. Lo slogan della nostra campagna è la tua sicurezza e la nostra sicurezza. E poi rispetta gli altri, rispetti te stesso. Insomma, penso che il significato sia pieno in queste pochissime parole. E continuiamo a parlare di trasporti, però questa volta trasporti privati, perché la storia che adesso vi raccontiamo riguarda un imprenditore fanese, un autotrasportatore, che sta facendo molta difficoltà a far viaggiare i suoi tir, i suoi camion e gli autisti, perché non riesce a trovare i guanti. Gianfranco è da 14 anni, che è un'azienda di trasporto privata. Da sempre si occupa di trasportare attraverso sei tir del materiale per la fabbricazione di mobili in tutta Italia, da nord a sud, e l'80% del lavoro di consegna viene svolto per una nota azienda di Bergamo. Gli effetti del coronavirus ha rallentato drasticamente anche il settore del trasporto. Da più di 15 giorni, ci racconta, la sua attività si è fermata per la mancanza di richieste. Ora la ripresa è molto a rilento. Cinque dei suoi tir sono partiti da pochi giorni per il nord Italia, ma le normative attualmente in vigore impongono ai titolari di imprese di rispettare un protocollo nazionale per il contenimento del contagio, che dispone l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale, tra cui anche i guanti, i doni, che risultano per l'imprenditore difficili da reperire. Il capo magazziniere di questa ditta multinazionale di Bergamo mi ha detto «Franco, guarda che questa volta ti carichiamo il camion, però domani se rimandi su altri camion, se non hanno i guanti protettivi, noi non ti carichiamo». Sono andato in farmacie, sono andato in tanti negozi, quelli che vendono prodotti per casa, sono andato in quelli che vendono le vernici dove mi servo tutto, mi si mettono tutti a ridere, quindi da molto che non ci abbiamo più niente. «Io adesso se ho i guanti protettivi, come devo fare? Perdo il lavoro, che non mi vogliono più Bergamo, come devo fare? Io dico a voi altri come devo fare? Se mi viene un controllo, un organo di polizia a controllarmi, cosa gli devo dire io? Cosa mi fanno? Una multa? Mi fanno chiudere? Cosa devo fare? E il lavoro, gli autisti, il lavoro che faccio su Bergamo da 30 anni, lo devo perdere?» Il rischio di sanzioni in vista di eventuali controlli, dice l'imprenditore, è molto alto e chiede più tutele da parte delle istituzioni. «Ripartire, sì, fase 2, sì, ripartire, ma ripartire in regola, ci vogliono questi guanti, perché non si trovano i guanti? Prima abbiamo lottato con le mascherine, adesso dobbiamo lottare con i guanti, poi insomma, e hanno paura che se ritorna questo virus dobbiamo chiudere tutti. Io penso che anche i politici qui di Fanno, il sindaco, gli assessori, tutti che si interessano, che fanno, non c'è più i guanti per gli operai che devono lavorare». Altra questione invece riguarda la situazione lavorativa, ci racconta dei sei dipendenti, di cui tre in cassa integrazione non ancora arrivata, e la problematica invece dei lavoratori attivi che spesso nelle trasferte non possono usufruire di bar e ristoranti per le diverse soste. «Due hanno dei bambini piccoli, tutti devono pagare l'affitto tutto, ma come fanno con 900 mila euro al mese questi qui? Ma sto governo che spara sempre miliardi lì, miliardi là, miliardi su, ma dove sono questi soldi?» E con la fase 2 sono ripartiti i lavori nei cantieri della città, è uscito da poco anche il nuovo bando per la costruzione della caserma dei Vigili del Fuoco. E a tal proposito abbiamo ascoltato il sindaco di Fanno Massimo Seri. Siamo entrati nella fase della ripartenza, non a caso sono voluto venire in un cantiere, un cantiere importante dove realizziamo la nuova rotatoria di via Papiria con la sistemazione e allargamento della strada. Un'opera importante ma vuole essere anche un segnale che le attività, i cantieri sono ripartiti, stanno ripartendo perché a questi si aggiungono le manutenzioni che stiamo facendo in alcune palestre, i lavori nella piazza Mendola del Lido per la raccolta delle acque. Sono usciti nuovi bandi per nuovi progetti come la realizzazione della nuova caserma di Vigili del Fuoco, ripartiranno a breve anche i lavori della nuova piscina. Insomma, cantieri e progetti che stanno proseguendo e che ripartono. Questo è un segnale che ci dimostra che ci stiamo avviando verso una normalità che dobbiamo riconquistare, non sottovalutando, e qui lo richiamo, mantenendo sempre i comportamenti responsabili, perché è ancora il virus con noi e quindi dobbiamo tenere quei comportamenti che non vanno a svanire il lavoro fatto fino ad oggi, ma che ci aiutino a ritornare alla normalità. Questo significa che con la ripartenza di questi cantieri, di questi lavori, dei nuovi progetti, ripartono anche le grandi progettazioni per rilanciare e rivalorizzare ancora di più la nostra città. Fanno una bella città e oggi ancora di più merita il nostro impegno, l'impegno di chi lo amministra e l'impegno di chi lo vive. Nel Comune di Senigallia invece è terminato da poco il prolungamento della pista ciclabile fino a Marzocca. L'intervento, realizzato nell'ambito del progetto della ciclovia adriatica Fano-Marotta-Senigallia, riguarda l'esecuzione dei lavori di manutenzione della pista con l'estensione in direzione sud dal lungomare Alighieri al lungomare Da Vinci. Inoltre sono partiti i lavori per realizzare i nuovi parcheggi. Spesso in fondo al nostro telegiornale dedichiamo spazio alle persone che compiono gli anni, soprattutto da 100 anni in su, oppure festeggiano i 50 anni di matrimonio. In queste settimane vi abbiamo parlato, abbiamo dato spazio a tante persone che purtroppo hanno lasciato questo mondo. Ma da questa sera vogliamo inaugurare un nuovo spazio, sempre nell'album di famiglia della grande famiglia di Fano TV, coloro che vengono al mondo. E allora questa sera facciamo gli auguri ad una giovane coppia, si tratta di Laura ed Eric, che oggi hanno messo al mondo Alessandro, un bellissimo maschietto di Fano. Ovviamente per loro, per tutta la famiglia, è stata una giornata di grande gioia, così come per gli altri due fratellini Lorenzo e Diego. Con congratulazioni dunque e auguri a tutti, anche da parte nostra di Fano TV. E con questo chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani mattina alle 7.45 con la Rassegna Stampa. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.